sull'altopiano del renon che si raggiunge con la funivia in 13 minuti da bozzano e dove troviamo il delizioso trenino del renon un tram che attraversa i boschi con delle viste panoramiche straordinarie ma da lì dal renon ci dirigiamo verso uno degli alberghi di charme più belli forse di tutto il trentino alto adige ed è l'hotel gloriette a sopra a bozzano che vediamo qui in un'immagine esterna la terrazza dove si pranza gastronomia eccellente un'accoglienza da otto stelle e una piscina sul tetto con una vista panoramica straordinaria ma lì troviamo una bellissima fiat 500 giardiniera della famiglia proprietaria e unica proprietaria sin dall'immatricolazione è una delle ultimissime 500 giardiniera col marchio fiat e infatti vediamo l'interno della 500 f con cruscotto e volante neri la 500 giardiniera è un'auto che in queste strade di montagna si comporta quasi come un afflinger veramente ha degli rapporti corti con cui si scalano veramente anche le salite più forti e spaziosa per trasportare anche le piccole cose quotidiane e soprattutto desta ammirazione ed è diventata un po una mascotte dell'hotel ma vediamo ora la storia della 500 giardiniera che nacque nel 1960 per realizzare una piccola auto spaziosa l'idea di dante giacosa fu geniale per trovare uno spazio dietro inventò il motore a sogliola piegando di 90 gradi i cilindri della fiat 500 normale mantenendo invariata la meccanica con pochissime altre modifiche di adattamento dal 1968 storia curiosa 500 giardiniera venne costruita presso gli stabilimenti del lato bianchi di desio e divenne bianchina giardiniera e fu affiancata alla panoramica bianchina che era molto più chicosa e sfiziosa nel tempo la 500 auto bianchi giardiniera che poi si chiamò solo auto bianchi giardiniera come vedete cambiò tre volte lo stemmino del frontale questo che vediamo adesso è l'ultimo comunque anche a 500 poi ebbe lo stemmino piccolo sul frontale e come vedete alcune modifiche contemporaneamente alla bianchina l'eliminazione di tutte le modanature il vetro posteriore in un sol pezzo anziché scorrevole una curiosità da 500 giardiniera fu prodotta in austria anche dalla steir puc con un motore boxer prodotto proprio dalla steir ma ecco adesso torniamo all'hotel gloriette sono andy e io mia moglie julica vi aspettiamo al gloriette guest house